Esteriormente voi cinque siete malvagi, predatori, sociopatici senza scrupoli. Oh, basta, mi fa arrossire! Per i più cattivi in circolazione... Sono i troppo cattivi! Arrastateli! ...diventare buoni. Rivediamo, polli! Non è mai stato... ...così divertente. Beh, questa cosa è imbarazzante. Hola, papa! Troppo cattivi. Sabato alle 21.20. Cosa? Prima Visione Italia 1. Prima Visione Italia 2.20.